Benvenuto in questo virtual tour, io sono Angelo Camiglieri Addis, mister a Citi Brianza e ti porto in visita in un appartamento trilocale arredato in zona San Carlo ad Esio. Ingresso su soggiorno con cucina vista, appartamento completamente ristrutturato e con arredamento recente, disimpegno con armadiatura che conduce al bagno, dove troviamo i sanitari, la doccia e la postazione lavatrice. Disimpegno, cameretta con armadiatura e doppio letto, scrivania e camera da letto con tutto l'arredo necessario. Per tutti i dettagli su questo immobile visita il sito www.desio.soloaffitti.it Per la cultura dell'affitto visita il blog www.misteraffittibrianza.com Solo Affitti, affittare con sicurezza.